Il concerto sta per cominciare Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui, sono molto accettata questa notte per questo, prego, emocionata Il titolo della canzone è Quando l'acqua del rio arriva al mar, le estrellas brillano e le tue orecchie mi guarda per aspettare con il amanecero in la montagna più conosciata come Lili Marlene Perfil Derecho Discusa perché non parlo molto bene il spagnolo, meno male che il mio reggatore mi insegna alcune parole e felazioni grammaticali Lili Marlene Lili, Lili Marlene A ver, altura e peso Uno sessantaggio di Altezza con il rato Kili Usted è nel perfil della autentica psicopata Che mi dici? Però non si alara Non si alara Imagina che eres una madre di famiglia Oh, che bello Una famiglia numerosa Oh, bellissimo, Carlo, Renato, vieni con me Andiamo qua con la mamma Tienes catorze hijos Catorze? Si, catorze Algun problema? No, scusa, però catorze Ma calda, concentrate Lili, Lili Marlene Scusate Vieni 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 Espera Vieni Sto già attacchiati tanto classico raggio A continuazione Il maestro e io Interpretaremo un vals Ah, però attenzione, in tan solo un minuto che me... Il maestro Pietro Fontana! Che ha? Tu nome? Come? Tu nome? Ah si, Fiorella! Fiorella Galetti! 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 Me dice nada Pero tus ojos negros se me clavano como espagas Pero tus ojos negros se me clavano como espagas Como es tu A la mañana Como los rayos de luz a mi ventana yo la quiero Como los rayos de luz a mi ventana yo la quiero Oh, 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 oh E, 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 E grazie, grazie, grazie 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 Grazie